Daniele Scardina, le condizioni, le del promoter fanno sperare. Arrivano notizie positive sulle condizioni di Daniele Scardina, ricoverato da martedì scorso nella clinica Humanitas di Rozzano dove è stato operato d'urgenza al cervello per un'emorragia estesa e attualmente in coma indotto. A darle è stato ancora una volta Alessandro Kerchi, promoter del pugile con il soprannome di King Toretto. Fuori dall'ospedale il promoter ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni. Daniele Scardina in coma. L'appello struggente del fratello sui social e condizioni di Daniele Scardina anche oggi abbiamo notizie positive. Le condizioni di Daniele continuano a migliorare. Siamo appena usciti dall'ospedale ha aggiunto i medici ci hanno rassicurato sul miglioramento del suo quadro clinico e poiché gli indicatori lasciano ben sperare hanno deciso di attendere ancora qualche giorno per iniziare le procedure di risveglio. Vogliono creare le condizioni ottimali per questo passaggio. Download per iOS. Clicca qui per scaricare la app del Corriere dello Sport. Download per Android. Clicca qui per scaricare la app del Corriere dello Sport.